te venisse un colpo te venisse un colpo non fa venire cacaccia ad osso veramente ciao ragazzi benvenuti al secondo continuiamo il nostro misterioso tunnel nella nave queste porte ero arrivati qua andiamo avanti ecco subito cacaccio benissimo quindi se questa sera aperta io apro ecco sì va bene andiamo avanti ecco che è il bene c'è lì sotto qualcuno no sembrerebbe di no ok questo è un armadio o quante bottiglie ma che queste bottiglie ha intenzione di bere mesade sì però attenzione di bere andiamo un po qui non c'è niente altro da fare però quella che si era ma questa è chiusa bene andiamo avanti ora su non mi far far cacaccio un'altra volta vediamo un po se c'è qualcuno qui e la bene si chiudono da solo le porte e la è apparecchiato per quattro ma poi giocando il buio così non è che sia tanto soddisfacente ma voglio andare qua invece se vado di qua ma è chiusa la cucina dovrebbe essere ecco io non so che cosa sia vela cucina c'è qualcuno ecco quando c'è questi rumori qualcosa che non va come se fosse una finestra aperta giusto sono tutte foto che non si vede il tizio va bene questa foschia vogliamo un po che qua sembra tipo fumo vedi cazzo e ma che cazzo sti cosi fanno venire cacaccia scusa mi sembra di riconoscerlo questa stanza un po quest'altro è un altro indice può darsi se no che cos'altro non mi sembra che questo tizio sia invisibile perché io non lo vedo e poi mi sembra di avervi già vista questa cosa vero oddio e basta ancora ok ecco ora sei rotto bene quindi ora qui mi sembra tutto meno illuminato andiamo avanti facciamo girare incontrare ok ma quante sedie c'è tavolini non si può interagire ma con questo oh che c'è una lettera da ufficio della sicurezza del transatlantico icarus ok quindi siamo non transatlantico tutti gli ufficiali maggior parte di voi sa già che verrà girato un film di hollywood a bordo del nostro vascello e stiamo inviando linee guida dettagliate riguardo a quali punti saranno chiusi i passeggeri cosa più importante la troupe non deve essere disturbata ok ma mi sembra che non ci sia nessuno quindi che disturbi mi sembrava una persona è un po buio qua però bene se si accendono da sole che culo c'era fatto cellule si accendono da sole che voce bellissimo cioè poche parole io ho girato mai che serve niente cosa sia non si sa non è un mondo sicuramente ok ecco sì lo so che c'è sempre un modo e allora c'è sempre un modo quindi devo andare di qua no non me lo ricordo ma un pochino di luci non c'è si ma non mi fa ricordare spaventandomi posso anche benissimamente venirti dietro senza scritto spaventi tanti hanno provato a prendere parte del mio lavoro come se ci fosse davvero scelta solo una persona in grado di dare vita questo personaggio solo una persona è così disperata da poterlo costruire quanto siamo disperati che non ci si capisce ma dove cazzo perché fa venire il cacaccio così beh non c'è niente da tradurre un disegno di un bambino almeno credo perché mi fa cammini cacaccio di guarda veramente cellino vabbè cellino prima che arrivi mi devo svegliare prima che arrivi questo sarebbe una benda ecco dove cazzo è andata dove cazzo sei dove devo non fa nient'altro ma c'è poco parole da dove è venuta no dimmi te dimmi te è un altro disegno ah potrebbe essere quel bambino che ho visto all'inizio che si è visto all'inizio ok questo è chiuso devo decifrare bene ok si inizia e dove cacchio sono le decifre dove saranno le cifre ora sto guardando ma non mi sa non sono qui e come si fa a sapere quali sono le cifre per uscire da qui eh boh metta caso ma fatti in neve allora vediamo un po devo trovare questi numeri dove le trovo questi numeri dove posso trovare questi numeri questi numeri dove le trovo qui non c'è niente sul disegno i numeri dove le trovo wow ho trovati 677 oh 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 ho 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 trovati trovati i numeri e ora siamo usciti questa è chiusa oh salve una persona ehi una manina mi serve ma cazzo mi immaginavo che era finto bene e ora quello scenderà giù non scende giù quindi cosa posso fare ehi amico mi fai passi novanta 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 la 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 si è girato non c'è niente però questo non l'ho dimenticato ci siamo davvero andati? Lily? io sono... questo è il capitano Baines a te mister Hardy ricorda il nome Quartermaster o io ti metterò camminare bene bene non c'è niente mi sarebbe questa cosa poi non posso passare quindi io ah ok quindi qui dovrei tirare la regia giù intanto questo che serve ah bella questa cosa dovrei fermarla preciso vedo dove è il segno giusto? bello che non c'è nemmeno l'ombra non c'è nessuno va proviamo no e allora che chieda a noi? ah troppo troppo poco meno un po' diamo di più ora si e va sì con questo faccio rigirare colpo che venisse un colpo non fa venire caccia adesso veramente ragazzo veramente perché dovete far venire il caccia ad osso così giravano il film ma vabbè ma qui c'è anche le cose guarda si sta lamentando la nave transatlantico qui c'è un altro film si infatti vedi stavano girando caccia si gira qui non si può entrare sicuramente qui uguale ecco c'era la x ma non ci fa entrare perché veramente io mi ostino a giocare a questi giochi di notte dove c'è tanto questo anche sape questo è il pacchetto di sigarette ah sì c'è la sigaretta appiccicata sopra ok quindi il sentiero dice di andare a dritto di andare a dritto andiamo dritto si sta lamentando si sta lamentando qui sotto c'è qualcosa non c'è niente qua non c'è niente il cassetto che roba è record company ce la farà prendere? record record non so se è un tipo rullino per sviluppare o dice segui il sentiero e se non seguo il sentiero? giusto va bene va bene seguo il sentiero ma che so che sta a fa' ehi ciccio mi allarghi la porta che devo che devo passare no proprio non mi fa passare vedi bene questo è sdraiato qui c'è quello che oh sembrava che c'era qui scusa perché sti sdraiato eh vabbè si è sdraiato prima c'aveva faceva finta di sparare ah ecco che è il cannocchiale fiamma fiamma devono salire a bordo in silenzio oh ma ah i so clandestini che parlano allora in questo caso devono salire a bordo in silenzio orario e descrizione delle attività le 22.05 termine della pausa 22.30 l'ultimo tecnico manutentore lascia la nave attraverso la passarela sul ponte e appoppa 23 pattugliamento del molo all'altezza della nave 23.27 in pattuglia dei pressi della zona di carico vedo l'ombra muoversi piccolo come fosse quella che è un bambino non la trovo nessuna turno di guardia l'eliminata a mezzanotte vabbè passiamo vediamo passiamo di qua no io ero veramente un grandissimo rompicapo di quattro ritorno di là oh ora si è aperta questa no dove sono il teatro certo teatro ma stavano proprio nel coso del dove fanno il oh mio c'è un bottino di oro lì dove fanno il set sul set dove registrano ehi cicci dammi una mano anche tu però eh una manina no tutto chiuso qua ok andiamo qua allora ciurma tu vai a sinistra te vai a destra e tu non stare lì seduto devi andare sulla destra ehi non si muove non mi dice niente ecco ciak si gira ok quello è morto questo sta operando cosa disce si è rotta 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 non è successo niente vai il bottino avanti mister hardy too many of them scurvy dogs to take head on lily i want to go home quartermaster steal yourself be your heart soaked in doubt or be there a fire burning within oh una chiave beh questa la prenderà sicuramente oh chi è devo salire via via sali sali oh oh cazzo che aspetta guardi il sole suona la campana suona la campana venga il bar basta è finito il film finito il film si gira domani tutti a casa vai finito il film oi è finito puoi andare a casa tu eh boh vabbè e ora si è finito il film come si fa aaa ehi chi è che gira chi è che gira vabbè no 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 va beh vabbè che è finito il film Cazzo Non va via Voglio andare via? Ari suona No Non serve Non mi fa guardare qui dentro Riu Dai Ma che cacchio è? Ah posso andare di qua? Oddio Salutaci Cioc Ecco chi è qui in bianco e nero Ah Apriti Madonna veramente Stappi di Palpiti del cuore Puoi spengere? No Allora Falegname di qualità Sordinazione Un forziare di legno solido Ma questo serviva per Veramente per fare Il film no? Cinghie aggiuntive Che il nostro lavoro soddisfetto aspettative Infatti vedi Ovviamente Questa è la roba Che ordinavano Per fare il film Ecco Ma perché? Spengiti per piacere Oddio Pronto a tornare indietro? Beh Devo tornare indietro quindi Perché tanto qua non c'è niente Sì Sei un grande Infatti vedi Mi dici che devo tornare indietro E noi torniamo indietro La luce abbaglia Bene Non so se fare veloce O fare piano Perché qui veramente aiuto Fa venire Oh Questo che è una pellicola Sì Questo che cos'è? Riecco quello che sparava Ah ecco Una rapina alla banca Hai rapinato la banca? E hai ammazzato Oddio Sono entrati dentro Hanno rompito la banca Dai entro anch'io Almeno faccio il vostro complice Vi guardo le spalle Ma come tieni premuto per co- Ho tenuto premuto per correre Ah non mi devo far vedere Ora ho capito Vediamo un po' Non mi devo Fare vedere dalla luce Giusto? Ora ho capito Se non ti spieghi Pensavo ci fosse qualcuno Che mi dico Ok devo entrare lì Entriamo lì Qui c'è punte luci No Fa strano Se spingi Non è estate 10 a destra 80 a sinistra E 40 a destra Me le ricorderò? Non me lo ricorderò mai 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 Non ho una mente così Allora continuare Allora continuare Allora l'ho visto E ho capito E ho capito E vabbè E vabbè si riprova si riprova Non ti preoccupare Ci si fa a rubare A rubare Ci si fa a rubare Ci si fa A rubare Ma puoi te far iniziare da capo capito Io non sono andati a finire Io non sono andati a finire Eeeh Eeeh Boh Dove devo andare? Dove devo andare? Devo uscire sicuramente Ok Ok Uscito Apriti sedano Ah ecco Poca parola Le devo rubare io Non è che devono rubare loro Infatti ti avevo detto Che mi dovevo ricordare Ok Apriti Dai 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 Si va a rubare Ah eccola vedi Ah ma ce li è qui Eh ma allora Si va bene Allora Sarà detto Dieci A destra Quindi giriamo fino Al dieci A destra L'ottanta A sinistra E Quaranta A destra Apriti sedano Che c'è dentro Una cucina In the land We've seen Behind shut eyes The one of bright shores Caressed by tide Where there's no pain No fear No fury No lies There We shall stand tall Our hearts Full of pride If your dreams are bold And by no man bound If your soul is strong Unlike any other Able to build walls Or tear to the ground Then yours is this world My little brother Ok Andiamo avanti Oh siamo nella scena Madonna ma è una nave Oh Sembra di no Ok Andiamo a vedere Questa vetrina Che c'è dentro Quante volte Oh mamma santa E come fai a leggerci Il signore Ardi E' un Guardier Mastro Un ruolo molto importante Poiché si occupa Di fare in modo Che l'equipaggio Sia sempre dove necessario Assicurandosi anche Che vi sia sufficiente cibo E rum per tutti E beh Il signore Ardi E' molto leale Al capitano E segue Edissequamente Cazzo che parola I suoi ordini Ok Sa che lui Il capitano E' impavido Il condottiero Bla 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 Accade La verità è che Fono pagina strappato Ok Quindi Manca la roba Ok Qui dentro C'è Oh mio Ce n'è un altro Quello che abbiamo trovato Il primo capitolo Due infatti C'è Va bene Ma non si può andare Quindi l'unica porta Ma oltre che essere Una nave Sembra un museo Ma porta C'è una porta C'è una porta Proviamo a fare questo No se no Sto'è chiuso Infatti Si apre E Ragazzi Genio Genio Mi c'è Eh ma No Ti tenete aperta No è chiusa Che cos'è qui Le monete saranno finte Sicuramente Che c'è Ah ecco qui sono Le riprese del set Vedete Questa è Fotografia Sparse ovunque L'hai avuta L'hai avuta Ah prende proprio il quadro Ah prende proprio il quadro E chiusa Sono proprio qui Diamo sempre un partello Eh non so Eh lo so che si Si Eh hai ragione Hai ragione Ma qui Figure Figure Faces Voices From the past Wrapped in a heavy Old Bag Becc Ok Qui che è il teatro infatti Sicuramente dentro Alla nave C'era questo teatro Bene Adesso sono proprio Incusati lassù Bene Ok I specchi Come al solito Non funzionano Va bene La prima cosa È la liberazione Quindi Ti libero Eh Va bene Ti libero Vabbè Un'altra chiave Ok Ah serve per questo Bella Questa cosa Possiamo fare Un atto di distruzione Quindi Che ti fai Ti distruggi Che cos'è Una palla Ah Dove potarsi sia Una palla Una palla Per La pistola Sicuramente Almeno O recording Che facciamo Ci si becca Alla prossima Ciao 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 Ciao